Ho sempre pensato che moriva a 33 anni, anche perché mi restano la mano e mi dissero che a 33 anni mi avrebbero sparato. E io a sta cosa ci ho creduto. E ora che se uscite a 140, mi sta rinventando la vita. Voglio passare la vita qui non siamo a te. E' una cosa che sto a fare io sta camminando. Io Pierino, carichiamo i motori. Io l'ho vista, mamma, come stava quando te ne sei andato. Allora, papà, vai bene. Ma che cazzo? Regalami i pomodori a tutti, immagino. Mi ti lascia a bere. Ti lascio a bere. Mi devi, mi lascia a bere. Mi devi, mi lascia a bere. Allora, non vedo la lamentazione, non ve lo dò il pacco. Mirko! E' una cosa che c'è, mi lascia a bere.